Sicuramente tornare a casa è sempre bello, poi io con la prima squadra non ho mai avuto l'onore e la fortuna di giocare, quindi spero che quest'anno per me e per la squadra possa essere un grande anno e possa trovare una grande annata, fare bene e comunque già stiamo lavorando per questo in questi primi giorni di ritiro. Ma sicuramente è uno stimolo, non è un'arma a doppio taglio perché comunque io sin da subito quando si è presentata l'opportunità di poter giocare per il Pescara, non tanto, di poter tornare a giocare a casa, ho deciso subito di dire sì a questa opportunità perché comunque le parole del mister e le parole del direttore e comunque la stima anche del presidente che già mi conosceva sono state la parte più importante della mia scelta, la scelta di tornare a giocare qui a Pescara. Anche se come ho detto sì è tornare a giocare a Pescara, però io con la prima squadra non ho mai giocato, quindi è stato un vero e proprio stimolo e sarà un grande stimolo per me poter dimostrare appunto di essere un giocatore di essere un giocatore valido e che può dare tanto appunto alla mia città e a questa piazza. Una squadra come Pescara che si ritrova in una Serie C, una Lega Pro deve per forza ambire a qualcosa di importante. Con il mister, con la società dovremmo ancora diciamo delineare gli obiettivi principali perché comunque adesso ci siamo concentrati soltanto sul lavoro fisico e sul lavoro aerobico, però sicuramente saranno obiettivi molto molto grandi e è giusto che sia così. Sicuramente i miei due anni fuori dalla primavera nel calcio dei grandi non sono stati ottimali, però ho comunque acquisito esperienza, ho fatto dei campionati che mi hanno dato tanto a livello umano e a livello appunto di esperienza e secondo me me li ritroverò in futuro e soprattutto quest'anno. Ma gli accostamenti con Verratti fanno sicuramente tantissimo piacere perché non devo stare qui a dire io che cosa è Marco Verratti, che giocatore è e che cosa ha rappresentato per Pescara e rappresenta tuttora, però sinceramente io comunque non ho fatto neanche un 1% di quello che ha fatto lui e penso prima a me stesso, penso prima a fare bene, a fermarmi come Marco Pompetti e poi comunque come ho detto fanno sicuramente piacere ma non è quello a cui penso.